Guarda che ribio che fa questo, e poi giustamente prendiamo il rimpallo, ma guarda che poche prendiamo! Mannaggia, Iconè! Scambio con Venuti, cross dentro, rimpallo, Iconè, ancora la Fiorentina che rimane lì, Baracca, deviazione, Bucato, Tataruigiano, la Fiorentina ha pareggiato, e Antonin Baracca ha fatto un altro a San Siro, il terzo consecutivo, parità! Fiorentina che ha reagito alla grande, questi 20 minuti, 25 minuti dopo il gol subito, era nell'aria, subivamo troppo! Attenzione per la Fiorentina, attenzione Iconè, uno contro uno, Conteo Hernandez, attenzione, sfida il suo diretto avversario, palla dentro per Venuti, mette in mezzo! Attenzione, regalo dentro, l'area di rigore, Baracca in area, cerca un sinistro! Gol della Fiorentina, e ti pareva, e ti pareva, lo sapevo io! Gol della Fiorentina, con papera di Tataruigiano, gol della Fiorentina, palla che è passata sotto le braccia di Tataruigiano, te pareva! Ancora i gol in seguito da Tataruigiano, va via sulla fascia, la mettono, ho detto, troppo pericoloso, attenzione, ancora i goneri in pallo, attenzione ragazzi, il tiro, gol! Gol, 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 pareggio buvagato da Tataruigiano, ha pareggiato la Fiorentina con Baracca al minuto 27, ha fatto il gol di Baracca, gol di Baracca! Ma va che culo ho! Ma di cosa parliamo, dai! Siamo scandalosi, siamo! Ma va che culo! Facciamo schifo al cazzo! Facciamo schifo al cazzo! Facciamo schifo, facciamo schifo! Schifo! Facciamo cagare la merda, facciamo! Pareggio meritato della Fiorentina, perché almeno le diciamo tutte come forse! Facciamo schifo alla miglia, basta! Parte il cross, bravo Calulu, poi Tonali rimane lì, la palla rimane dentro l'area di rigore! Ma va beh, ma che palle! Ma che gol di merda! Tiro di Baracca deviato da tre giocatori, la palla entra in porta! Perché è normale così ragazzi, perché è normale così! Perché noi un gol normale non riusciamo a prenderlo! Perché noi un gol normale non riusciamo a prenderlo! Da partire da quando non si riesce a spazzare il pallone, da partire da quando manchiamo gli stop, e poi ci meritiamo di prendere questi gol qua! Perché dopo una sera il Milan non è più esistito! Perché ci chiamo a casa, solo lanci in un giro per giro! Ma è normale, ma è normale! Perché sono 26 minuti che noi siamo tutti per nemmeno toccato un pallone! Guarda che rinvio che fa questo! E poi giustamente prendiamo il rimpalco! Ma guarda che gol che prendiamo! Ma guarda che gol che prendiamo! Il pallo, il conè, ancora la Fiorentina che è mai lì, Baracca delle azione! Prima! La Fiorentina ha pareggiato! E' ancora di Baracca! Ne ha fatto un altro! Il terzo non è il secondo! Qualità? Fiorentina che ha reagito alla grande, questi 20 minuti, 25 minuti, lo portò subito! E' stato un monologo viola del gioco, delle idee! E' cresciuto a grande e bello! Franza al cross, primo palo, Rebic scavalcato! Goal! 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 Auto-goal! Goal! Goal! Al 92esimo! Sì! Al 92esimo! Sì! Con il Milan, tutto il campo! Auto-goal! Credo a Goal! Sì! Sì! Metti in mezzo! Vaglia! A favor! Auto-goal di Encovich! Auto-goal di Encovich! Auto-goal di Encovich! Goal! Incredibile! Auto-goal di Encovich! Prebic, la vada che rimane lì! Goal! 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 GOOOOOOOL! Non c'è nessuno che sta provando. Sesto. Ancora Franks. Ci siamo in tre dentro l'area di rigore. Franks, parte cross. Rebiccio, non c'è arrivato! Out goal! 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 Te l'hai chiamato! È giusto così! È giusto così! È giusto così! È giusto! È giusto! È giusto, porcadron! È giusto? Oh rimball recovered! BAM! BAM, 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 BAM! This guy's so bad. Tata Dasano! That thing's the Pi Roller! How did he not save that?! Listen, sit still in a small pitúr Premium room